Oggi la scuola ha fatto una grande partita. L'ultima settimana ha fatto un grande lavoro e ha giocato meno male a Brindisi. I primi 20 minuti dopo ha giocato male e adesso a casa ho giocato molto bene, anche per tutti i tifosi e la società. Per me sono andato in una partita bene perché pensavo del mio amico Leonardo che è venuto la settimana scorsa e è morto. Lui mi ha fatto una grande promessa. Io ho detto che tutte le partite, tutti i tiri li fanno sempre per lui e stasera ho giocato sempre per lui. Mi ha fatto piacere perché ho parlato con lui e lui lo sapeva tutto di me. Mi ha detto che tu hai giocato a Miami, a Varese e tutto. Lui conosce tutta la mia carriera e questo mi ha fatto molto piacere. Lui rimane sempre nel mio cuore per la vita e non cambia nulla. Queste ultime 13 partite sono sempre per il 100% e basta. Sì, sì, un po' di tutti la squadra anch'io. Adesso sta un po' meglio un attacco. In difenza va bene, il ribalzo va bene. Più o meno un attacco bisogna prendere un po' il ritmo. Quando prendere il ritmo sono a posto, quando prendere il ritmo è un po' difficile. Perché io ho giocato sempre con la palla a mano, con tanti tiri. Noi tiri non fanno canestro. Io sono così. No, la squadra ha fatto un lavoro bellissimo nei primi cinque minuti. Dopo loro sono venuti e noi abbiamo fatto come a Brindisi. Più cinque. Dopo Brindisi ha metto tre o quattro tiri da tre punti da fila e non gioca più. Adesso noi ha giocato sempre per 40 minuti. Con l'editor coach la partita giura 40 minuti e alla fine ha fatto una grande partita, una grande vittoria per i due punti. Sì, io sapevo che loro giocavano piccoli e piccoli. Noi non vogliono cambiare tanto perché se loro giocavano piccoli è meglio per noi. Noi possono andare dentro, ribalzo. Possono cambiare anche tutto, difensori. Non è facile. Alla fine ha fatto un buon lavoro con loro. Sono andato bene per noi. Meno male così. Sì, ho fatto un passo avanti con Capodolendo. Ho fatto un passo dietro con Brindisi. Dove confermare Avelino. Non sarà una partita difficile. Vediamo. Doveva giocare 40 minuti. Loro sono come noi. 5 con 5. 40 minuti. Se giocavano come ha giocato con le ultime due o tre partite di fila, vediamo. Il video è offerto da... ... ...